La lettera di dimissioni, il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi, l'aveva già scritta ieri dopo aver constatato di non avere più una maggioranza in Consiglio Comunale. Ha aspettato 24 ore prima di inviarla ufficialmente, ha provato in estremis a ricomporre le cose, ma poi si è reso. Con queste parole oggi si dimette da primo cittadino e saluta la città. Dopo una lunga e sofferta riflessione, dice il sindaco, in considerazione della situazione politica che si è venuta a creare all'interno della coalizione di centro-destra al Comune di Teramo, questa mattina ho rassegnato a Sua Eccellenza il Prefetto di Teramo e al Presidente del Consiglio Comunale le mie dimissioni da sindaco. La dedizione e l'amore verso la mia città ritengo di averla dimostrata in 17 anni di amministrazione. La costanza, la coerenza, l'onestà e il grande lavoro hanno caratterizzato il mio essere consigliere comunale, assessore ed infine sindaco. Ringrazio prima di tutto la mia famiglia, i miei concittadini, la coalizione che mi ha sostenuto, il Movimento di Forza Italia, in particolare il Presidente Silvio Berlusconi, i cui valori hanno ispirato la mia azione politica. Non ultimo ringrazio l'intero Consiglio Comunale e tutte quelle persone che hanno lavorato al mio fianco in questi anni. Lascio con profondo dispiacere il rammarico in un momento in cui la città avrebbe bisogno di una guida per portare avanti le difficili sfide del post-sisma, ma consapevole di aver dato tutto me stesso per la mia amata Teramo. Ora il sindaco Brucchi ha 20 giorni per ritirare le sue dimissioni e c'è chi dice che abbia un ultimo asso nella manica per vincere la partita e restare in sella. Un appello alla responsabilità, alle opposizioni, ma soprattutto ai dissidenti, ricordando loro il drammatico momento che la città sta vivendo, con tanto da ricostruire. Missione quasi impossibile.